Nel comune costiero di Giulianova, dopo la manifestazione dei commercianti di qualche settimana fa contro le chiusure imposte dalla zona rossa, i titolari degli esercizi commerciali hanno annunciato che se non ci saranno delle novità sulle riaperture, venerdì 4 dicembre alzeranno le serrande dei propri negozi come segno di protesta incuranti dei rivieti imposti. A farsi portavoce di questa protesta è Gianni Massi, commerciante con due negozi in centro. Questa è una provocazione per esprimere tutto il nostro disagio. Noi domenica abbiamo fatto un atto di protesta richiamando la responsabilità delle forze politiche, anche perché, come ho ribadito durante la manifestazione, oggi benissimo noi vogliamo rispettare tutto quello che sono le normative, però a volte bisogna anche ricordare che ci sono i pilastri della Costituzione che dicono che tutti devono essere tutelati. E oggi non mi sembra, perché l'articolo della Costituzione cita che l'Italia è una Repubblica democratica basata sul lavoro e tutela anche la salute. Ma la salute deve essere di tutti, perché se oggi creiamo un mondo di indigenti, soprattutto nel nostro settore, quindi gente che di fronte a tutto quello che sta accadendo diventerà povera e le loro attività falliranno, allora mi chiedo che tipo di protezione può avvenire per i soggetti come noi. Questo Stato ha avuto tutto il tempo per poter garantire quella che era una messa in protezione. Non l'ha fatto e oggi scaricare tutte le situazioni che si stanno evolvendo solamente su noi non va bene. Noi abbiamo delle famiglie da proteggere, la Costituzione ci tutela, capisco che questi DPCM sono degli atti amministrativi, ma il dubbio che sollevo è che secondo me vanno al di là di quello che è il pilastro di un paese democratico, che è la Costituzione. La pazienza dura fino a quando un soggetto non è messo alle strette. Quando poi un soggetto è messo alle strette, che si vede completamente una situazione di abbandono completo, poi le reazioni possono essere anche irrazionali.